Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI, dove per lavori di miglioramento della sicurezza al momento ci sono rallentamenti tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno e tra Montelupo Fiorentino e Ginestra in direzione Firenze. È chiusa l'uscita di Ginestra Fiorentina provenendo da Livorno. Si ricorda che il cantiere chiuderà il 31 dicembre con un mese di anticipo rispetto al cronoprogramma. Restano validi percorsi alternativi sulla strada provinciale 12 e sull'autostrada 11. Per altri lavori è chiusa l'uscita di Tirregna provenendo da Firenze. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale Toscana. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!